Ciao a tutti! Ciao da Sofia! Ciao da mamma! E benvenuti in questo nuovo video! Oggi faremo i biscotti di Natale! Allora abbiamo un impasto alla vaniglia, un impasto bianco e nero, un impasto al cioccolato e ovviamente un impasto pan di zenzero! Sei pronta Sofia? Sì! Wow abbiamo tanti tipi di impasti! Poi abbiamo le formine così a fiocco di neve, a cuore, a stella, a... Bastoncino di zucchero? Sì! A forma di babbo Natale? Sì! Oh oh oh! Non so se si vede! E poi abbiamo un formino a casetta! Sì! Faremo le casette di pan di zenzero! Sì! E poi ovviamente la farina, lo zucchero a velo, i zuccherini colorati, la cioccolata, eh sì la marmellata... E direi di cominciare! Abbiamo deciso di cominciare con questo! Eccolo qui! Ma com'è bello! Wow! È tutto bianco e nero! Cominciamo a tagliare i pezzettini! Eccoli qua i nostri biscotti! Cominciano a prendere forma! Ma che carini! Tutti a scacchi! E adesso che i biscotti sono pronti, Sofia li mette nella teglia! Eh sì! Sofì! Ma sei bravissima! Grazie! Ho una mano anch'io! Altrimenti Sofia dice che io non faccio nulla! Non è vero! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Mamma i biscotti sono finiti! Ecco qua la nostra bella tegliona pronta! Ciao ciao! Tra poco! E intanto, mentre i nostri biscotti cuociono, ne prepareremo degli altri! Io voglio quelli che si possono decorare con queste adorabili decorazioni! Guardate quanti sono! Questo significa che faremo i biscotti di pan di zenzero! Eccolo qua il nostro bel impasto! Non ci resta che stenderlo con il nostro mattarello di fortuna! E adesso è la parte più bella! Fare le formine! Facciamo prima una casetta di marzapane! Carinissima! Sono pronti! Oh! I nostri primi biscotti di questo Natale! Wow! Ma che carini! Non vedo l'ora di mangiarli! Però adesso dobbiamo lasciare raffreddarli! Nel frattempo, noi continuiamo! Ma che bel cuoricino! E adesso rimpastiamo! E mentre Sofia rimpasta, io inforno i primi biscotti! Guardate che carini! Oh! I sa! Facciamo le stelline! Sono pronti! Wow! Quanti sono belli! Ma sono cresciuti tantissimo! Sì! E intanto Sofia assaggia! Buoni! Adesso quali facciamo? Quelli al cioccolato! Sì! Preferiti di Babbo Natale! Oh mio Dio! Guardate questo impasto! È super cioccolatoso! Fa vedere! Wow! Però non si mangia crudo, eh! Eh, no! E si impasta! Spalmo! 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 E adesso che forme vuoi fare Sofia? Da Babbo Natale! E ovviamente i biscotti preferiti di Babbo Natale sono quelli al cioccolato! Quindi faccio proprio lui stesso! Sembra che la farina è zucchero a velo! Oh! Guardate come sono belli! Sono tantissimi! E tu che fai Sofia? Sto impastando! E mentre tu impasti, io metto anche questi biscotti nel forno! A tra poco! E adesso i miei preferiti! Quelli alla vaniglia! Ecco qua! Stiamo facendo dei serpentelli! Adesso tagliamo dei pezzettini! Un'ottima aiutante direi! Bravissima! Secondo me Sofia si fa così! Stendi un po' di qua! Stendi un po' di là! E piega! Non è male dai! Mmm ragazzi! Intanto anche i nostri biscotti al cioccolato sono pronti! Profuma tutta la casa! Questo ragazzi è il profumo del Natale! Ecco qui tutti i nostri biscotti! Wow! Wow! Sono tantissimi! Sì! Sono davvero tanti tantissimi! E adesso Sofia c'è la parte che tu preferisci! Decorare! Sì! Wow! Prima di tutto cosa abbiamo messo qua dentro? Abbiamo messo due uova! Due albumi! Oh! Poi aggiungiamo un po' di limone! Oh! Vai! Gira! Giriamo! 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 Forte, forte, forte! Sembra di fare la frittata! Oh! Molta schiumettina! E mentre Sofia mescola... Io preparo la cioccolata! Sofia! Mmm... Sofì! Guarda qui! Cioccolato! Mmm! Brava! Ottimo lavoro! Adesso io un po' la volta aggiungerò dello zucchero a velo e tu dovrai continuare a mescolare, va bene? Sì! Oh, direi che ci siamo, eh! E adesso dobbiamo solo colorarla! Sì! La glassa rosa! La glassa viola! Ma che bella! La glassa gialla! Oh! Giallo limone! E' rosso! Uh! Wow! Ma sembra quasi rosa! Io direi di metterne un altro goccino! Un altro piccolo goccino! Oh, mamma mia! Ma questo non è poco! Oddio! Ecco! Adesso si che è rosso! Ma tu da quale cominci? Io inizio... Da un... Cure! Bello! Di che colore lo fai? Il mio colore preferito! Il viola! Sì! Ma guardate che bello questo Babbo Natale che ha fatto Sofia! Hai scritto oh oh oh! E adesso cosa fai di qua? Un bastoncino! Sì! Carino! Sofì! E sai quelli faccio io adesso? No! Quelli con la marmellata! Mmm! Un po' di marmellata! Un altro biscotto sopra! E adesso nel cioccolato! Oh! Ecco i nostri pistotti! Sì! Allora abbiamo fatto questi cioccolatosi con la marmellata! Sì! Questi con lo zucchero a velo! Anche questi! Questi ripieni di marmellata! E i miei preferiti! Questi con la glassa! Sì! Allora questi li ho fatti mamma! Questo l'ho fatto io! 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 L'hai fatti quasi tutti! ma sono bellissimi ma il mio preferito è questo beh Sofia è stata una grande fatica ma ci siamo divertite tantissimo sono buonissimi e quelli con la grazza saranno pronti domani dobbiamo aspettare che si raffreddi bene ragazzi se questo video vi è piaciuto come sempre mettete tantissimi like e non dimenticate di iscrivervi al canale e seguirci sui nostri social network, facebook ed instagram anche per questa volta è tutto noi vi mandiamo un grandissimo abbraccio un grandissimo bacio e alla prossima ciao